Continua la bagarre sulla sede tua di Chieti. Qualche giorno fa il sindaco Umberto Di Primio aveva dichiarato che il distretto rimarrà a Chieti, annunciando anche di avere il benestare del presidente del trasporto unico Gianfranco Giuliante. Parole che però sembrerebbero smentite dei fatti, pare che i lavori di accorpamento dei distretti di Chieti e Pescara siano già stati avviati. Mi risulta ed è facilmente constatabile che l'iniziativa e le attività di smobilizzo del distretto verso Pescara sono in fase non avanzata ma addirittura avanzatissima e quindi d'esta meraviglia il fatto che da una parte si procede a sprombattuto alla smobilizzazione del distretto verso Pescara e dall'altra parte l'avvocato Bucci dichiare pubblicamente che la tua è alla ricerca di un sito su Chieti. Si mettono d'accordo. Il sindaco però è sicuro, il distretto tua rimarrà a Chieti, non importa se nella sede di un privato o in quella del demanio pubblico. Ma non è il dove che mi interessa, l'importante per me come sindaco della città è quello di conservare nella nostra città la sede di tua. Tu è giusto che rimanga nella nostra città dove è da sempre, dove c'era anche la sede legale per vero di tua. Adesso abbiamo bisogno di individuare un'area, c'è già un deposito, io non devo fare il tifo per alcuno ma devo difendere la mia città, il mio territorio, l'interesse della mia città, il PIL che viene prodotto nel mio comune e quindi ho chiesto a tua e ho avuto da tua assicurazioni che quella sede che fino ad oggi è qui, il distretto che oggi è qui, verrà conservato nella nostra città. Esistono aree del demanio che potrebbero essere atte a questo scopo? Io questo non glielo so dire. Tutto iniziò quando Giulianti annunciò che nella sede Tiatina vi fosse dell'amianto non messo in sicurezza, ma le prove del pericolo per la salute dei dipendenti finora non sono mai state fornite. Il presidente Giulianti nel momento in cui a luglio giustifica la sua decisione affermando che in quel distretto c'è il pericolo dell'amianto lo fa in base ad una relazione che sa non esistere, che non ha mai visto, che non ha mai letto e dunque significa che il presidente Giulianti ha mentito sapendo di mentire a tutto il popolo abruzzese. Grazie. Grazie.